È una partita comunque da prendere con le giuste considerazioni. Una squadra che abbiamo battuto lì 3-0, per cui conosciamo abbastanza bene questa squadra e la prendiamo in considerazione con la stessa importanza delle altre partite. Chiaramente comunque siamo rivolti alle partite che faremo la settimana prossima col Venosa in casa e a Potenza subito dopo il mercoledì. Per cui cominciamo un attimino a crearci la concentrazione giusta perché insieme queste tre partite potranno effettivamente delineare la classifica finale. Si può ancora effettivamente puntare alla vetta della classifica? Io credo di sì, però dobbiamo fare sempre risultato positivo. Ce l'auguriamo e i ragazzi comunque sono motivati anche se purtroppo abbiamo qualche difficoltà di continuità in palestra per gli allenamenti. Non si può chiedere di più a loro e di conseguenza ci auguriamo sempre il meglio.